Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di questo oggetto meraviglioso, il DJI Osmo Action. È un action cam che ha fatto tanto parlare di sé da quando è uscita e da quando l'ho provata ho capito il perché. Però facciamo un attimino di recap e due premesse. Allora, la prima premessa è che io sono un videomaker che ha sempre utilizzato le action cam. Ah, se sentite un po' di rumore di fondo è perché ho il ventilatore acceso, perché ci sono le luci qua, mille gradi, i computer che lavorano stamattina che scaldano e quindi per essere un attimino più umano ho acceso un attimino il ventilatore. Detto questo, dicevo, io ho sempre utilizzato le action cam unicamente per lo scopo per cui sono state progettate. Ovvero, le utilizzavo in tutte quelle situazioni in cui una reflex, una mirrorless tipo la giacca a 5 ma anche una mirrorless più piccolina come la GX80, di cui vi parlerò in un video, erano poco pratiche o era proprio impossibile utilizzarle tipo sott'acqua. Quindi io le action cam le utilizzavo sott'acqua, attaccate al casco quando andavo in pista sul kart per fare inquadrature un po' strane, foto un po' strane magari durante una camminata, un trekking utilizzando il bastone allungabile. Quindi per tutte quelle situazioni in cui puoi usare sotto. E io, stupidamente per dire anche per esempio nei miei video matrimoniali, non ne ho mai usato un action cam, perché non ne ho mai trovato la giusta applicazione. Forse, preconcetto mio, errore mio, però istintivamente a livello creativo, lo dico sinceramente, non mi veniva da utilizzare un action cam per uno scopo diverso da quello per cui era stata creata. Finché non ho messo le mani sull'osmo action. E ho messo le mani sull'osmo action e ho provato a portarlo con me per tre giorni in Trentino Alto Adige, in cui ho fatto video in lungo in largo. A breve uscirà il video di questo fantastico viaggio immerso in paesaggi incredibili, però già in questo video vi metterò degli spezzoni per farvi vedere come lavora l'osmo action. L'ho portata e l'ho utilizzata come camera principale per tutte le clip video che vedrete alla fine, poi nel video quando lo pubblicherò. I timelapse, ce ne sono tre, li ho fatti con la GX80, ma non perché i timelapse di questa siano brutti, ma perché per il mio modo di lavorare mi trovo meglio a farli con una mirrorless, ma è pallino mio. Detto questo, quando noi la compriamo, nella confezione troviamo tre cose. Troviamo l'osmo action, di cui ora vi parlo, un normalissimo cavettino USB-C, che non vi metto neanche nel video perché è un cavetto USB-C, e il frame. Il frame che non è lo scafandro, nel caso è il frame, quello nero che sta intorno, che molto intelligentemente è stato costruito con l'attacco, quello universale da action cam. Quindi tutti i miliardi di accessori presenti sul mercato con l'attacco per la GoPro sono compatibili con questa action cam. Questa è una mossa di mercato molto molto intelligente, perché sicuramente DJI a breve arriverà con i suoi accessori, sicuro. Però intanto questo oggettino qua può essere montato su tutti gli accessori esistenti per action cam, e questa è sicuramente una cosa molto intelligente. Ma veniamo a letto. Tiriamo fuori dalla scatola, la prendiamo in mano, e abbiamo subito la sensazione che è costruita da Dio. In questo video farò qualche paragone con GoPro, con la mia esperienza a GoPro. Io personalmente sono arrivato a possedere fine la GoPro Hero 5 Black, la 7 e la 6 non le ho comprate, ma la 7 l'ho provata, e quindi potrò farvi un po' di paragoni fra le due. L'ho provata anche abbastanza intensamente, me l'ho fatta prestare così, per curiosità, poi alla fine ho scelto di comprare questa. Allora, è costruita molto bene, le plastiche sono di ottima qualità, e anche se ha uno schermo davanti, che lo so, è la cosa che ha fatto più scalpore durante la presentazione, non è meno robusta, o comunque meno affidabile. Anzi, ora vi spiego. I materiali sono ottimi, ed è ottimo anche il sistema con cui è stata costruita, e con cui tu puoi immergerla in acqua. Ora vi faccio vedere, ve l'avvicino, andando a toccare, ah no, l'ho già messo a fuoco da sola, perché ho il face detection, quindi la GH5 tenderà sempre a mettere a fuoco la mia faccia. Se io ruoto lo small action, vedete che qua in basso ha una sicura qui e una sicura qua, e devono essere premute contemporaneamente, oppure prima una poi l'altra, per estrarre la batteria. Intanto mi è arrivato un messaggio. La batteria ha di per sé già la guarnizione, è lo sportellino che va a ricoprire il vano batteria, e due sicure che appunto consentono di far rimanere ben saldo al corpo. Infatti noi andiamo a chiudere, andiamo vicino al microfono, e si sente il doppio clic delle chiusure. Quindi con questo sistema qua sappiamo che la batteria non si stacchera mai durante un uso anche abbastanza borderline, durante anche un uso abbastanza intenso, e questo è una cosa molto intelligente. Fatto molto bene anche lo sportellino, quello laterale, che si va ad aprire premendo l'unico pulsante che c'è sopra, ve lo faccio vedere, dove noi possiamo andare a mettere la scheda di memoria e l'attacco USB-C per collegare al computer. Anche questo sportellino è fatto molto bene, molto meglio a mio avviso di quelli di GoPro. Detto questo, parliamo dello schermino anteriore. Ve lo farò vedere in maniera più approfondita dopo, però è una rivoluzione. Su GoPro c'era, ma su GoPro potevi avere le informazioni. Giusto sapere se stavi facendo foto o video, in che risoluzione, quanta batteria ti rimaneva, a che framerate stavi lavorando, eccetera. Non molto altro. Qui invece puoi vedere l'inquadratura come se la vedessi dal monitor posteriore principale. E quindi per tutte quelle situazioni in cui ti stai inquadrando, sia foto che video, questo è una figata. Io l'ho utilizzato tantissimo. Esempio, ne hai due, vai in moto. Una la metti qua per fare la classica inquadratura del manubrio e della strada che hai davanti. Ma se vuoi inquadrarti mentre guidi, la posizioni così e non sei più costretto a passare dall'app di cui vi parlerò. Però puoi guardarti in live da questo schermino. Quindi una figata. La lente. Adesso ve la avvicino di nuovo, sperando la rimetta a fuoco. La lente qua davanti è un coprilente perché se io lo vado a svitare, faccio vedere tutto proprio in presa diretta, troviamo la lente vera e propria. E questo qua è una sorta di paralente, di coprilente. Normalissimo. Però il fatto che si possa svitare così facilmente ha fatto pensare un po' tutti, e ci sono anche dei rumors, che arriveranno questi, ma a mo' di filtri ND o di filtri polarizzatori. In questo modo potremmo utilizzarli in maniera più creativa utilizzando i filtri che siamo abituati a usare sulle nostre reflex e mirrorless. E questa è sicuramente una cosa molto figa. Figliissima. Detto questo, come funziona? Allora, le funzioni che ci sono al suo interno sono quelle che ci sono in tutte le action cam di fascia alta. Ormai non è che ci si possa inventare chissà che cosa. C'è la registrazione dei timelapse, dove, non vi faccio neanche vedere, cioè vai a selezionare il numero di scatti che vuoi fare e l'intervallo di tempo fra uno e l'altro. L'A e B, che per non far durare questo video 20 anni, in breve è una sorta di bracketing, vi scatta delle foto in JPEG a esposizioni differenti, così voi potete unirle e fare un HDR, diciamo. Poi c'è la funzione slow motion, in cui potete fare un video slow motion e ve lo dà già rallentato. Quindi voi tirate fuori il file dall'SD ed è già rallentato al massimo. Ve ne parlerò. Video HDR, per tutte quelle situazioni magari di controluce, in cui magari con un'inquadratura normale avete o il cielo è esposto bene e tutto sotto in ombra, oppure il sotto è esposto bene e il cielo è tutto bianco. Con un video HDR avete sia cielo che, diciamo, paesaggio è esposto correttamente. E poi c'è la modalità video normale. E come passare da una modalità all'altra? Ve lo faccio vedere, ve lo accendo. Ok. E premendo questo pulsante, che si chiama QS, Quick Shift, vedete che andate a passare da una modalità all'altra. Molto semplice, molto intuitivo. E allora, diciamo che la modalità HDR io non la utilizzo quasi mai, perché si abbassa un po' la qualità, non puoi più fruire dei 60 frame o dei 50 sul 4K, sei limitato a 25 a 30, e perdi anche il Rocksteady, che è il sistema di stabilizzazione alieno che c'è su questa action cam. Poi ve ne parlo. Diciamo che la modalità video HDR io la consiglio per quelli che non sono molto pratici, che magari la utilizzano tutta in automatico e che magari non sono molto pratici in post-produzione per color correction e color grading. Perché? Se per molte situazioni una action cam GoPro, Xiaomi, Osmo Action, la si utilizza in maniera automatica, perché tu l'attacchi in un punto, vai e non puoi star lì a modificare i parametri per l'esposizione corretta. Anche perché l'esposizione automatica funziona molto molto bene, anche al buio. Però se hai un po' di dimestichezza in post-produzione, anche un video registrato in maniera normale, normale, non HDR, hai comunque facoltà di recuperare le luci e le ombre in maniera molto molto efficiente. Di conseguenza per uno che ha quelle competenze da videomaker, sia che lo faccia per lavoro, sia che lo faccia per hobby, ma lo faccia per bene, il video HDR diventa inutile, perché poi tanto luce e ombre le riesce a recuperare con ottimi risultati in post-produzione. Infatti io, per tutti coloro che sono un po' sgamati e sanno quello che stanno facendo, consiglio di utilizzare la modalità video normale, alla risoluzione che gli serve, partiamo dal preistorico 720 fino ad arrivare appunto al 4K a 60 frame al secondo, in modo tale da poter fruire intanto di un bitrate maggiore rispetto a video HDR, perché arriviamo fino a 100 Mbps, e potendo soprattutto fruire del Rocksteady, che è il sistema di stabilizzazione di questa Action Cam. Fra poco ve ne parlo. Sempre parlando della qualità video, 4K fino a 60 frame al secondo abbiamo detto, abbiamo anche un profilo colore flat molto utile per la post-produzione, sempre per riallacciarmi al discorso di prima, con cui si possono recuperare luce e ombre in maniera fantastica. Ha una buona gamma dinamica, e se noi andiamo appunto a, tra virgolette, schiarire le ombre, parlo sia foto che video, in post-produzione, a meno che non le schiariamo al massimo, il risultato è buono, non escono fuori cromie strane, la merda, rimane tutto abbastanza utilizzabile e di ottima qualità. E appunto con il Dicine Like, che è questo profilo colore flat, siamo molto più liberi in post-produzione, in color correction, in color grading, e riusciamo ad ottenere un risultato più personalizzato e più professionale. Oltretutto quel profilo colore è lo stesso che c'è sui droni DJI, e quindi se noi utilizziamo questi in combo con un drone, la color correction andrà a combaciare perfettamente, anche il color grading, ovviamente. E questo sicuramente è un più molto molto interessante. I video in slow motion, c'è la modalità slow motion, che vi dà già il video rallentato. Io lo sconsiglio, perché in quel modo lì avete il video già rallentato, ok? Se invece andate a mettere come qualità di registrazione, guardate, ve lo faccio proprio vedere in live, così, è più chiaro quello che sto dicendo, ok? Allora, noi andiamo a tirare giù lo sportellino, qui intanto vi faccio un po' vedere il menu, che funziona molto bene, perché vedete, è molto reattivo, scrolla molto molto bene, e non è macchinoso come quello di GoPro. Questo funziona, secondo me, molto molto meglio, ma anche qui ve ne parlo dopo. Andando a fare uno swipe up, si apre tutto il discorso, aspettate che mi metto a fuoco, riguardante la qualità video. Vedete, voi potete andare su 1080 e impostare sotto i 240 frame al secondo, ok? Anziché andare ad utilizzare la modalità slow motion, perché vedete, io ero in modalità video, non sono andato in slow motion. in questo modo, voi avete un file a 1080p a 240 frame al secondo, che potete utilizzare a qualsiasi velocità, perché se voi andate nella modalità slow motion, ve lo dà già rallentato. Qui potete fare quello che pare a voi, nel senso, potete sia tenervi da velocità normale, a velocità dimezzata, 2x, 4x, 8x, siete un po' più liberi. Avete un file più versatile, e questo è il mio consiglio. Il sistema di stabilizzazione. Il sistema di stabilizzazione è qualcosa di alieno. È veramente incredibile. Incredibile sotto ogni punto di vista. Tutte le clip che ho girato in Trentino, sono state girate o con l'osmo action in mano, o su un hand grip, cioè su un tipo usare il GorillaPod. Io avevo il cavalletto che sta sotto la GH5, che è il Manfrotto Pixie, quello piccolino. Io ce l'avevo montato qua sotto e lo utilizzavo da hand grip. E basta, non ho usato gimbal elettronici, meccanici, nulla. Camminando in maniera un pochino più attenta, senza dondolare troppo, con il Rock Seddy attivo, si ottiene un effetto veramente incredibile. Se poi la clip la si rallenta, perché l'abbiamo fatta magari a 60, 120, 240 fps in base alla risoluzione, ah no, sul 1080p a 240 frame al secondo il Rock Seddy non è attivabile. Quindi sul super super slow motion il Rock Seddy non c'è, ma a 240 frame al secondo puoi rallentare talmente tanto che tutte le riprese sembrano fluide. Però esempio, io l'ho utilizzata quasi sempre in 4K a 60 frame al secondo, rallentavo del 50% la clip, con l'effetto del Rock Steady, e magari mettendoci anche una stabilizzazione in posto con Premiere, con il Warp Stabilizer, il risultato era qualcosa di incredibile. Ma non solo camminando avanti o indietro, anche nei pan, nei tilt, nei movimenti magari circolari di macchina, tutti i movimenti di macchina, anche quelli teoricamente più complessi, venivano letti dal sistema di stabilizzazione in maniera eccellente e stabilizzati in maniera perfetta. E questo in ottica viaggio, secondo me, è qualcosa di fantastico, perché io nello zaino ho fatto a meno di mettere lo stabilizzatore, di cui vi ho parlato sul canale, che avevo per la GoPro. Ho fatto tutto a mano libera. Eh, boh, qualcosa di magico. Già l'hypersmooth della Hero 7 Black era già qualcosa di incredibile, ma questo, secondo me, sempre telefono che suona, lavora in una maniera pazzesca, veramente. Io pensavo che 4K a 60 frame al secondo, con lo stabilizzatore attivo, la batteria... Invece, io comunque faccio clip brevi, 10-15 secondi al massimo, ma è durata due giorni. Il primo giorno ho fatto Lago di Tovele, Lago di Braille, e il secondo giorno Cime di Lavaredo, e l'ho utilizzata per due giorni. Ora, complessivamente, partendo da 100% arrivando a zero, non so effettivamente quanto duri la batteria. Però io l'ho utilizzata per tutte le clip di viaggio, il primo e il secondo giorno, ed era a posto. L'ho ricaricata solo per il terzo, quindi un'autonomia ottima. Non l'ho immersa in acqua, però da come è costruita, secondo me, è estremamente affidabile. L'audio è buono, ovviamente non è un audio come quello del Rode VideoMic Pro, però se dovete vloggarci un attimino, utilizzando anche lo schermino qua, va benissimo. Schermino qua come si attiva? Allora, noi la accendiamo, ci sono questi suoni che ti vanno a dire, questo è lo schermino che si è sempre usato, quello posteriore che sta inquadrando me. Tengo premuto il tasto Quick Shift, che è questo qua, quello che tenendolo premuto poco, ci fa switchare in modalità. Tenendolo invece premuto a lungo, crea l'icona dello Shift, e si attiva l'altro schermo, come potete vedere. Ed è comodissimo, comodissimo per farsi magari delle foto un po' fighe, col bastone, e il paesaggio dietro, è veramente figo. Io l'ho utilizzato tantissimo, quindi è veramente una cosa molto, molto intelligente. E c'è anche il controllo vocale, c'è anche il controllo vocale, che al momento è solo in inglese, funziona bene, io l'ho provato, ma non ve ne parlo a lungo, perché io non è una cosa che utilizzo. Il controllo vocale non l'ho mai utilizzato neanche su GoPro, non è una cosa che fa parte del mio metodo di lavoro, del mio metodo di ripresa. Non uso mai il controllo vocale, anche perché mi trovo sempre in situazioni in cui non mi serve. Però c'è, funziona attualmente solo in inglese. L'unica pecca è che non c'è, tra virgolette, una parola d'ordine, no? Non c'è un, hey Siri, ok Google, non c'è niente di tutto ciò, no? Non c'è tipo, hey Osmo, scatta una foto. Ichi solo scatta una foto. E questo può portare a volte che scatti delle foto quando non vorresti. Però funzionare funziona, magari verrà implementato con qualche firmware. A proposito di implementato con qualche firmware, vi volevo parlare dell'app che si chiama DJI Mimo. È un'app che fa le classiche cose da app che controllo in action cam. Gli unici due utilizzi che ne faccio è, se lascio l'Osmo Action lontano e voglio scattarmi una foto, la comando da remoto con l'app, è per aggiornare il firmware, perché il firmware è aggiornabile tramite l'app. Però, avendo lo schermino frontale, mi sono ritrovato ad utilizzarla molto meno rispetto all'app di GoPro che utilizzavo quando avevo la GoPro. Però, c'è e funziona, il firmware si è aggiornato in 448, sicuramente è più comodo farlo con l'app che mettere il firmware dentro la scheda di memoria e inserirla nell'Osmo. È un corpo-macchina veramente incredibile che mi ha fatto riscoprire questo lato quasi documentalistico dell'action cam e mi è piaciuto tantissimo, perché non ho dovuto sbattermi più di tanto, perché è veramente un corpo-macchina che lavora molto bene di suo. Esporre bene, stabilizza da Dio. Io avevo solamente l'idea dell'inquadratura e la facevo. Ed è un grosso vantaggio se si viaggia, se si devono vedere tante cose, se ha poco tempo. Quindi, veramente, è un acquisto che per tutte le persone che viaggiano e vogliono viaggiare il più leggeri possibile, senza rinunciare alla qualità, io lo consiglio proprio così a mani basse, perché è veramente fatta molto molto bene. Il video è durato anche fin troppo e spero che abbiate apprezzato le clip, diciamo, di preview di quello che sarà il video del Trentino, che uscirà a breve. Iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto, spuntando la campanella, così vi arriveranno tutte le notifiche e non vi perderete il video del Trentino. Venitevi a trovare sui social che vi lascio in descrizione, guardate anche la descrizione che vi parlo un attimino dell'Osmo e vi lascio tutti i link utili. E niente, buon viaggio e buon videomaking a tutti. Ciao belli!